ed eccoci tornati ragazzi oggi voglio spiegarvi come eliminare quei file corrotti o virus che in altro modo riusciamo a eliminare dal nostro computer e rieccoci oggi per eliminare quei dannatissimi file utilizziamo un programma che è una garanzia file assassin il nome fa paura pronunciarlo ti senti potente file assassin va a sterminare qualsiasi tipo di virus o programma che non vuole essere cancellato in nessun altro modo quando aprite il programma scegliete file da eliminare successivamente dobbiamo decidere di eliminarlo al riavvio del computer in background quando avrete riacceso il computer non ci sarà più niente questo programma è una figata spero che vi sia stato utile ci vediamo alla prossima ciao ciao